A voi fa comodo questo sistema? Fa comodo per due motivi. Intanto perché quando le cose non funzionano, quando si può urlare, a voi fa comodo. E questo consente a voi di urlare, di lanciare sempre più su. E poi perché questo sistema, nell'opacità, guardi Presidente, è un sistema... Alla fine i parlamentari del Partito Democratico prendono la stessa paga che prendete voi. Glielo dimostro, guardi, Presidente, uso il suo, uso il suo ma con grande rispetto. Lei nel gennaio ha ricevuto netti 12.680 euro, a febbraio 10.011, a marzo 9.783, ad aprile 12.564 e così avanti. Ogni parlamentare del Partito Democratico, con una detrazione, con un rimborso di 1.000, 2.000, 3.000 euro, ogni parlamentare che è qui, e non solo qui, anche nei banchi di altri gruppi, versano 1.000, 2.000, 3.000, almeno 4.000 euro al mese per mantenere i partiti, che sono uno strumento previsto dall'articolo 49 della Costituzione. E lo facciamo con orgoglio, non è che lo facciamo nascondendoci. E io con orgoglio dico che noi, i partiti, li difendiamo sotto questo punto di vista, anche con le risorse economiche. Voi invece questi soldi qui non mantenete i partiti, fate altro e noi cosa lo fate? Non lo sappiamo!